Sua eccellenza Antonio Morabito ha terminato la missione come ambasciatore nel Principato di Monaco. MC Info l'ha incontrato, come fece al suo arrivo, nel 2010. Si ricorda la nostra camminata dove adesso c'è un cantiere, perché Monaco è sempre un cantiere in continua evoluzione. Quattro anni sono passati. Come sono stati questi quattro anni di missione? Quattro anni e mezzo. Direi intensi, dinamici, sicuramente con dei risultati straordinari e forse anche imprevedibili. Sono stati quattro anni e mezzo in cui l'Italia, l'italianità, in qualche modo qui ha potuto esprimersi al massimo dei livelli. Sia perché qui c'è una vicinanza all'Italia molto forte e sia perché c'è un'aspettativa d'Italia e perché l'Italia qui ha un ruolo. Un ruolo da giocare grazie anzitutto a una vicinanza del principe all'Italia e al governo e alla presenza di una comunità italiana dinamica, presente economicamente, presente nella cultura e nella società. I ricordi belli. Quali sono state le belle sensazioni che si porterà via da questa missione? Tanti. Tanti, soprattutto l'accoglienza e la cordialità che la gente ha avuto per me sempre. Sicuramente le iniziative di valore che hanno esaltato, hanno dato risalto alla cultura italiana, all'economia, al Made in Italy, a tutto quello che è stato una promozione del sistema Italia a tutto campo. Che quindi ha toccato le regioni, le città, l'enogastronomia, ha toccato le eccellenze dell'italianità o della cultura o di chi scrive o di chi produce. Quindi dall'arte alla musica, al teatro, ogni aspetto della nostra vita di cultura, di società in qualche modo ha avuto spazio. Ma perché qui hanno spazio appunto le migliori risorse delle associazioni italiane, degli imprenditori, della Dante Lighieri, di tutto quello che in qualche modo tende a valorizzare quello che è italianità appunto. Beh, abbiamo parlato di momenti belli. Qualche momento brutto ci sarà stato? Qualche momento più difficile degli altri? Beh, la vita mette sempre delle prove e in questo momento, in questi anni così belli, così esaltanti, non potevano non mancare le prove. Quindi ci sono stati anche momenti duri di prove non facili da superare che però, grazie alla correttezza, quando si è nel giusto, nella strada maestra, alla fine emergono le cose belle, vere. E quindi le prove ci sono state ma, grazie a Dio, sono state anche superate. La cosa di cui è più fiero? Delle cose, di quelle realizzate durante questa missione di quattro anni e mezzo? Beh, sicuramente l'accordo storico bilaterale sulla fiscalità. Sicuramente che era uno dei mandati che io avevo al mio arrivo della mia missione. Aver potuto concludere il mio mandato, diciamo, con un grande accordo che apre prospettive nuove nei rapporti di cooperazione tra i due paesi, sicuramente è un gran bel risultato. E lascia qui molti amici che la volevano trattenere. E il futuro di Antonio Monabito? E questo è nelle mani di Dio sempre, però sarà un futuro che in linea con quella che è stata un po' la mia vita anche. E volevo aggiungere anche un'altra cosa. L'accordo bilaterale firmato da pochi giorni sulla cooperazione allo sviluppo. Italia e Monaco si sono impegnati a fare insieme progetti di cooperazione allo sviluppo nel piano campi umanitari, in Africa, in vari paesi del mondo, in mini progetti, che sicuramente aggiungono un valore a quella che è questa intesa, a questo rapporto forte di amicizia, ma che sempre più ha delle realtà concrete su cui si può lavorare e sviluppare cose. Ritorneranno in principato di quando in quando? Credo proprio di sì, perché qui lascio tanti amici. Io ho un culto profondo dell'amicizia, per cui credo di tornare proprio perché continueranno le amicizie vere. Grazie a tutti.